è stata un'occasione storica per gli agenti immobiliari professionali la presentazione della nuova norma uni nel corso del convegno che si è tenuto al tempio di adriano a roma la 11 932 fortemente voluta dalla fiap definisce una procedura operativa comune per l'intera categoria l'obiettivo della norma uni è quello di offrire all'intera categoria un modello professionale di riferimento con un percorso di formazione continua ad oggi normativamente assenti il tutto finalizzato a promuovere un nuovo mercato in cui circolino solo immobili preventivamente verificati al più congro valore di mercato che è quello indicato da noi operatori professionali il tutto va a agevolare la circolazione regolare degli immobili a beneficio di una dinamicità virtuosa del mercato a tutela del cittadino ovviamente con una ricaduta positiva sulla nome e l'immagine dell'intera categoria è un traguardo molto importante una pietra miliare veramente per la professione agente immobiliare che va a definire quali sono i compiti le attività le abilità le conoscenze di avere l'agente immobiliare nello svolgimento dell'attività professionale abbiamo divisa in più settori la comprovenda immobiliare la locazione la scessione d'azienda l'affitto d'azienda e per ogni comparto abbiamo definito cinque macro aree principali audite documentale valutazione di mercato in carico di mediazione collaborazione professionale e proposte di acquisto locazione sono queste le cinque fasi previste della nuova norma uni la cui pubblicazione rappresenta il coronamento di un progetto iniziato quasi dieci anni fa è un percorso importante che di cui io sono stato l'iniziatore diciamo quello che ha dato il via ma il merito naturalmente va fatto all'attuale presidenza tutto il gruppo di lavoro che ha inizia che ha concluso questo percorso è un percorso il metodo di lavoro che qualifica la figura dell'agente immobiliare di conseguenza l'agente immobiliare ha una sua una sua norma di riferimento ma allo stesso tempo quella norma di riferimento è anche per gli utenti per i consumatori per i cittadini che quindi possono e devono chiedere all'agente immobiliare di applicare quel metodo di lavoro la certificazione 11 932 alza ancora di più le garanzie di legalità trasparenza e professionalità del lavoro svolto dagli agenti immobiliari professionali con ricadute positive per l'intero sistema c'è una funzione pubblicistica del bene casa che va tutelata l'agente immobiliare l'esperto il professionista un po come l'esperto nella crisi d'impresa che deve garantire la fruibilità di questo importantissimo bene che ha un contenuto ripeto pubblico siamo stati abituati a pensare pubblico buono privato cattivo ecco io penso che se il privato rispetta le regole deve andare a bracciato col pubblico tra gli effetti dell'introduzione della norma uni importante sarà la progressiva riduzione del contenzioso giudiziario come emerso anche dalla ricerca presentata dall'università di padova il mediatore immobiliare diventa anche colui che è in grado di far rispettare le nostre norme di legge perché in qualche modo fa incrociare interessi pubblici e privati e indirizza le parti alla conclusione di un affare sicuro e in grado appunto di combattere tutte quelle che possono definirsi le derive contenziose della compravendita immobiliare sicuramente una modalità per offrire l'opportunità di confrontarsi con dei professionisti che proprio in quanto garantiti da questa normativa offrono sicurezza e certezza in un modo professionale oltre all'apprezzamento del notariato ampio è stato poi il plauso da parte dei rappresentanti del governo e dei parlamentari intervenuti per il processo normativo voluto dalla FIAP a garanzia e tutela del consumatore sappiamo che gli italiani sono proprietari del 71 per cento delle abitazioni per cui è un bene non è solo un bene rifugio è un bene di investimento da parte dei nostri cittadini e quindi è assolutamente fondamentale e importante che il cittadino si approcci all'agente immobiliare sapendo che quell'agente immobiliare ha fatto un corso di informazione ha fatto l'esame a una certificazione segue delle determinate regole questa norma uni garantisce certifica professionalità e competenza quindi l'utente potrà affidarsi con maggiore tranquillità a chi opera in un settore così qualificato così importante anche a tutela della proprietà privata che uno dei valori fondamentali di una società liberale e civile diverse sono ancora le aree del sistema che richiedono un confronto parlamentare interventi legislativi dalla digitalizzazione degli atti fino allo snellimento degli adempimenti fiscali questa è una veramente grande novità che penso rappresenterà un salto di qualità per la professione del futuro oltre ovviamente all'aggiornamento professionale per quanto invece riguarda la questione del compenso in atto io ritengo che debbano negli atti non solo indicare gli importi ma si possa aggiungere alternativamente il numero di fattura penso che sia oramai superato il momento dell'obbligatorietà rispetto alla scrittura dei dei compensi ma che debba diventare un passaggio facoltativo anche perché come prima ricordato ho cercato di ricordare quando c'è una fattura elettronica evidentemente insomma tutte le cose stanno già al loro al loro posto dobbiamo fare i passi avanti il pnr dedica delle risorse importanti alla digitalizzazione alla dematerializzazione degli atti siamo ancora indietro onestamente ma credo si debba da fare di più al nostro modo di vedere come partito democratico accelerando l'attuazione del pnr e non rallentandolo insabbiando la definizione di criteri ancora più rigorosi nel calcolo delle superfici e delle caratteristiche degli immobili daranno maggiore certezza e trasparenza alle transazioni e ai consumatori questa norma aiuterà ancora di più perché professionalizzerà gli intermediari immobiliari e li renderà attraverso una formazione adeguata ed otti per fare sempre meglio un mestiere diciamo difficoltoso in un contesto di normative che evolvono ma che devono garantire le due parti nell'acquisto per evitare inutili e dannosi condensiosi. Si tratta sicuramente di uno strumento non contro l'abusivo ma contro le persone che non hanno la capacità professionale e la preparazione professionale per svolgere questa attività. Non è una lotta contro il soggetto ma è una lotta contro le persone che svolgono questa attività senza averne l'adeguata preparazione. La FIAP continua a guardare avanti l'auspicio per il futuro e che la presentazione della norma uni sia solo il punto di partenza di un dialogo sempre più costruttivo con il legislatore. È un momento storico per l'intera categoria, un momento di straordinaria importanza per tutti gli agenti immobiliari italiani perché con la pubblicazione della norma di fatto si va a completare un percorso paranormativo che costituisce un'anticamera per una futura legge ovvero un preciso riferimento per il legislatore nel momento in cui deciderà come debba essere svolta l'attività di un agente immobiliare professionale e da qui l'impegno diciamo di tutti noi alla massima divulgazione di questo metodo operativo professionale perché l'obiettivo è che nel tempo diventi un metodo comune di lavoro che garantisca la massima efficacia nella collaborazione tra i colleghi a tutela del mercato e a beneficio della comunità.